Mi chiamo Serena Canale, frequento il Funtana e liceo scientifico Antonio Orsini di Ascoli Piceno. Leggere l'urlo dell'universo di Dario Menasce è stato sicuramente un modo per ampliare il mio bagaglio culturale, per prendere consapevolezza delle potenzialità del mio paese, in quanto nel libro ci viene presentato il laboratorio di Virgo, un laboratorio situato in Toscana di importanza mondiale, ma che in territorio italiano ancora non riceve le giuste attenzioni. Sono rimasta affascinata in particolar modo dal sistema degli specchi, un sistema accuratamente studiato e degno di nota, che viene utilizzato per la ricezione delle onde gravitazionali, che diventeranno sicuramente in un futuro prossimo motivo di ulteriori scoperte. Un libro che quindi era nato semplicemente da un obbligo del professore per le nostre conoscenze, si è dimostrato in realtà un'esperienza formativa e assai soddisfacente.